Ben trovati su Ray TV, un saluto da Gerardo Paterna, oggi un'ennesima intervista con un personaggio che ancora non ha calcato le scene di Ray TV, abbiamo in studio infatti Riccardo Bernardi che è coordinatore dei rapporti tra Moneymax e Agos, ciao Riccardo e benvenuto, grazie Gerardo, allora partiamo subito con una domanda facile facile, cosa c'entra Moneymax che non fa mutui con gli agenti immobiliari? Allora Moneymax che non fa mutui diciamo che fa prestiti personali e soprattutto fa prestiti personali Agos in quanto siamo agenti esclusivi di Agos, un po' di storia velocissima di Moneymax perché Moneymax, cosa c'entra con Raymax? Moneymax ovviamente è partecipata al 51% da Raymax e l'altro 49% è partecipata dal nostro partner finanziario che è Credipass, non è una società nuova perché nasce nel 2011 quindi siamo già al sesto anno di attività e ha una rete di 20 agenti sul territorio nazionale che lavorano all'interno delle agenzie Raymax, quindi questa caratteristica fa sì che molte delle pratiche di prestito presentate appunto ad Agos siano raccolte all'interno delle agenzie dopo l'avvento di un immobile perché abbiamo visto che moltissime persone dopo che hanno comprato casa appunto contraggono un prestito per ristrutturare, per comprare la cucina perché arrivano magari dopo l'acquisto con la necessità di un piccolo finanziamento, a volte anche non piccolo perché il nostro ticket medio è 21.000 euro quindi è decisamente altino nel settore dei prestiti. Non si rischia di appesantire un po' troppo poi la rata rispetto al reddito visto che hanno già contratto mutuo? Diciamo di no perché si arriva a fare anche come durata, la nostra durata media è 84 mesi, si arriva anche a 120. Molto spalmata. Sì, quindi la rata alla fine è sotto le 300 euro anche per un prestito importante, importante intendo 30.000 euro. Quindi questa sinergia vediamo che sta funzionando molto bene tant'è che siamo arrivati a finanziare circa 3.000 clienti, solo l'anno scorso abbiamo fatto circa 10 milioni di erogato finanziando veramente tante persone. Quindi questa è un po' la storia di Moneymax, ci raccontata in qualche minuto, che ha obiettivi comunque ambiziosi perché oggi siamo il secondo deal di Agos e vogliamo ovviamente diventare il primo. Ed è per questo che so che state cercando alcune figure professionali, se ce la vuoi raccontare. Sì, noi stiamo cercando degli agenti in attività finanziaria che siano iscritti all'ORM, se non hanno l'iscrizione poi la possiamo fare, che possano poi operare e collocare prestiti ma anche cessioni del quinto di Agos perché abbiamo questi due prodotti. Abbiamo parlato principalmente dei prestiti perché il linguaggio immobiliare è più semplice. Sessioni del quinto è un altro prodotto interessante, un po' più articolato. Cerchiamo 20 agenti in diverse province sul territorio italiano dove andiamo ad offrire a questi agenti la possibilità di avere un ufficio, una postazione totalmente gratuita perché viene pagata dall'azienda all'interno di un'agenzia del gruppo Remax e sfruttando ovviamente le sinergie di cui parlavamo. Remax ma non solo perché è... Te l'avrei chiesto infatti, se è un prodotto, cioè se è un servizio, una consulenza che è riservata solo ed esclusivamente alle agenzie immobiliari Remax oppure se trasversalmente intendete adeguare l'offerta anche a un panorama di professionisti più ampio. Assolutamente, assolutamente vogliamo esportare dal network questo servizio perché è un servizio trasversale che non va in conflitto totalmente con l'attività di intermediazione che offrono le altre agenzie, anche competitor di Remax e soprattutto è un prodotto post compravendita che dà il grosso vantaggio di mantenere quel follow up col cliente di cui tanto si parla nel mercato immobiliare. E quindi c'è fidelizzazione in sostanza. E fidelizza, certo. Perché poi spesso dopo sei mesi, dopo dodici mesi viene fuori che questo cliente ha il fratello che deve vendere, la cugina oppure l'amico che ha visto casa sua nuova e vuole andare a abitare anche a lui, quindi diventa un argomento per mantenere questo contatto magari finalizzato anche da altre compravendite. Quindi ovviamente è un prodotto trasversale. Un prodotto trasversale che non solo serve per finanziare eventuali lavori di ristrutturazione che è il finanziamento principale, ma vuole anche essere una risposta a quell'esigenza dei millennial che è una nuova generazione che si sta affacciando al non acquisto di un immobile perché si parla che due terzi di queste persone vorranno andare in locazione, ma quando vanno in locazione si trovano comunque un esborso iniziale importante perché tra i tre mesi di cauzione, i tre mesi di affitto anticipato, l'eventuale mini lavoro, gli arredi, a volte c'è un esborso di 5, 6, 7, 10, 15 mila euro e questa cifra magari diventa un ostacolo o diventa un ulteriore impegno anche magari per i genitori e noi riusciamo finanziandoli a far fronte a questa esigenza e rendendo molto più semplice la possibilità di prendersi una casa e rendersi comunque indipendente. Quindi questo è un po' l'idea e il motivo per cui vogliamo creare questa forte sinergia tra agente immobiliare e agente prestiti, chiamiamolo in questo modo. Gli agenti ti capiranno sicuramente. Esatto, ma vogliamo andare a prendere una nicchia di mercato che rappresenta tanta intermediazione futura per le agenzie immobiliari. Certo. Come fa l'agente immobiliare o l'agente diciamo in attività finanziaria interessato a lavorare con voi a entrare in contatto? C'è un sito web? È molto semplice, c'è un sito internet che è www.money-max.it oppure può scrivere un'email a info-money-max.it. Ok. E gli eventuali colloqui poi li fai tu? Gli eventuali colloqui o li faranno direttamente con me o con un nostro responsabile commerciale che abbiamo a Roma che si occupa poi degli aspetti legati anche alla formazione, a quelle che sono le avvi commerciali di questi nuovi agenti. Benissimo. Grazie mille Riccardo, sono sicuro che le tue informazioni saranno interessanti e molto importanti per gli agenti. Bene, grazie ancora. Allora, siamo arrivati alla fine quindi anche oggi in attesa di rivedervi per la prossima intervista. Vi saluto, quindi un saluto da Gerardo Paterna e da Riccardo Bernardi. Buongiorno a tutti, arrivederci. E alla prossima, sempre e solo su ReTV. A presto.